Quindi mi aggaccia il peso che mi si creerà in live Tra l'altro porca puttana è arrivata adesso che la luce mi si è scaricata Quindi non mi potete vedere l'unico Ma sento un altro compare con la tosse Sì sono io Ah eccoci Non so che non è Non so che non è Non ti conosco È nuovo È nuovo ma è di Kida credo Se oggi pomeriggio stavi guardando la live di Kida Stavo giocando anch'io Ah ok ok Quindi arrivi da Kida e probabilmente ti ho sentito più e più volte Sì anch'io Io sicuramente sì Il piacere per me Il piacere vedrai per te di giocare con me Perché lui siccome è anziano Devi capire quindi ci vuole 6 volte A spiegargli che cosa bisogna fare dal gioco Già che ci chiedeva Ma quindi è gratis il gioco Sì è come HS è gratis Ci ho messo un pochino Ok Ok io ho creato Ah no giusto perché il mio canale di stream non è quello lì È quello nuovo Comunque Orso è un buon cosoniano Mettiamola così Un alieno quindi Situazione mi sentite? Sì sì ti sentiamo Ti sentiamo Però io ho la webcam che non c'è entrata Allora sì Allora non so perché sta facendo un'ulteriore installazione Ok ragazzi quindi tutti sul Muti Twitch Ho appena aperto adesso Bravo Me l'hai spammato tu da me? Sì La preparazione all'avvio di The Site Di The Site Si è verificato un errore È morto È morto tutto? Non si può fare? Non lo so Aspetta che lo scopriremo Nel gialuto Ho rotto il gioco Come è possibile E poi ho rotto il gioco È così Scommetto che si apre HS e va subito È quello sicuramente Senza dubbi Quando mai Le cose Eh sì Abbiamo rotto il gioco Incredibile oh Iniziate l'ho rotto Allora aspettate che riavvio Steam Queste live Degli Space Variety Che iniziano Più o meno Tardi Verso le 11 Sì Ma effettivamente Sulla carta 11 e mezza Si comincia effettivamente a giocare Ma è così Eh beh scusa Il setup non lo vuoi fare in live Ma sai qual è Ma sai qual è Il problema di Naro È che è talmente spaziale Che si perde nel tempo Di un buco nero Quindi il tempo che arriva Dall'altro lato Si fanno le 11 e mezza E quindi cambia posizione E quindi siamo sempre dopo Noi diciamo L'indice e mezza Iniziamo con lo space E niente Siamo all'undice e mezza Forse E con odds Ricordo che hai crashato Quattro volte Quindi Eh vabbè Così fa parte del gioco Lo sapete che la mia connessione È quella che è Eh infatti Come ti stavo dicendo Prima Akita Quando stavo ancora facendo Come sta andando Sta cosa di metterti la fibra Ce la stiamo facendo È morto Già adesso è morto È morto È morto Aspetta che ti do la conferma Ha crashato il pc Confermo È morto Andata grazie mille Chi è quello col pigenino È orso Quello col pigenino Io sono io Sì 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 Sei la mia versione di casa Però Sarà quello di battito E io quello di te Dai non è possibile Che ci ha crashato Io non le porterei Naro Io ho scritto Naro sei tuo È la replica Capisco se È già ritornato Oppure è sempre lui Che sta ripetendo Perché è crashato Perché c'è Quei 10 secondi Che ti si ripetono E poi crasha Sempre che tornerò Ma ci fa queste promesse Non è vero Quando? Quando? Per le 11 e mezza Forse sì Complicate la volta scorsa Ah ok Il bis Beh è ottimo Quindi 4 volte Devo aspettare Cioè dobbiamo fare Un game Lui crashiamo In 3 in game Poi lo aspettiamo Un'altra volta E andiamo avanti Per 3 volte almeno Quindi Dato che l'altra volta Vi ricordo Che ho crashato 3-4 volte su odds Quindi È che ce ne facciamo una Al massimo usciamo Prendiamo tempo Intanto Lasciatemi crashare Nuova son di Celentano Di Adriano Naro Sì perché Su Poon Guarda te Che spavento L'hai avviato tu Eh sì Che spaventale Certo che ce ne facciamo Un da uno Adrinaro Celentano Eh Però io voglio capire Per Adri L'hai crashato anche Da Discord Eh sì Perché l'hai crashato Ero in live Eh non lo so Adri Se ne su Whatsapp Ne niente Quindi Giocela Poi bo Secondo me Sei dimenticato Il PC acceso Puro Io ho la paura Dentro me Adesso Tranquillo Tanto Naro Celentano Che sembra più Una fusione Ne fa Adri E Naro Sì Con Celentano È un'attrice Io mi dico Celentano Io sono Alex Perché giustamente C'è C'è Orso Che va rubato Chang Che gioca col coltellino La pigia Io ho la maglietta Kawaii E va Dove c'è la maglietta È vero che l'hai trovata Maglietta Kawaii Mi sveglio Vedo tutto bianco Abbiamo caricato La visual Del tutto Attenzione Ok Non mi fai Sono un n***o Ok Ok Allora io devo Che è questo Ehi Ehi Che parti sono Della mappa Guarda che c'ho sempre Aspetta un attimo Stavo venendo su Aspetta Chi vuole il fucile a pompa Venite verso il fucile a pompa Eee Guarda Quello sei tu Kitta Kitta questo sei tu Sì Kitta Sono di qua Spenga Sono io Però stavo pensando Una cosa Mi dica Mi sento già degli spari Che cazzo succede Hai già capito chi è Io sono qui Fermo da solo Io stavo Stavo guardando qualcuno Che Qua in zona Dovremmi esserci Una cosa Ci la pompa Lo volevo prender Vabbè Adesso Non è vero Non l'ho preso io Bugia Bugia Che stronzi Volevo fredderlo io Perché l'ho visto per primo Stavolta Ah le munizioni Ma questa qui è stronza Allora No perché stavo vedendo Che con Con Steam Adria è su qualche gioco Forse Oh subito Però non ho capito No è inattivo Eh infatti Allora avevo Avevo visto la cosa azzurra No La vuole questa qui Vai via Ah è tutto buio È tutto buio Ok Allora qua l'avete gu... Oh What? Con la vaffanculo Come si orla Eppà Eppà Che vero Non mi si sente Come non mi si sente Io ti sento Ma no Non mi hanno sentito Io ho cantato Lasciatemi crashare Eh lasciate... Ecco lei è pappalardo Comunque Non è celentano Lasciatemi la gare E la mia era Lasciatemi crashare Ma io devo trovare l'uscita però Perché sono in line Eh sì Lasciatemi crashare A me sembra che Rachel sia innocente Come di voi dico Ma state giocando voi? Eh ci stiamo facendo una Giusto per prendere tempo Perché sono... Bravi È così che si fa Si lasciano indietro Le persone Quelli che non hanno L'interno giusto Esatto Cioè c'è uno che sta morendo Spara gli ha una gamba Lascialo indietro Va bene Si Anyone Ok Ok Che è un problema Ora mi si sente Sabi Spero di sì Dicevo Benvenuti sul canale La presentazione l'ho fatta A miliardi di volte Benvenuti sul canale che crasha Eccoti Sul canale che crasha Di più di tutta Twitch Eh sì Ah ciao Sono Ciao Salve salve C'è il Cristino Io c'è gli occhiali Sono buono Sono Kitter È partito Sta partendo Attenzione The site Ce la stai facendo Che cosa sta succedendo Ma però qua è tutto circolare A parte stare sopra Quindi non so dove cazzo andare Grazie è buio Ci credo che non vedi Dove è finito il cursore Ma io gli occhiali Non va bene Non si può vedere La modalità detective di Batman Ma che bello Ma si può mettere a tutto schermo Sì certo Perché non dovresti Allora Ah go Kitter Kitter non l'ho mai visto Io sono con Rachel Scusa la porta Eh ma io non vedo No No Rachel Una foto Sentite Cosa succede? Cazzo dietro il muro Vieni con me! Ok, Agur, tutti i fuses Non so chi sia, chi possa essere l'innocente Io perchè, mi sembra che non abbiano fatto granché, il problema è che... adesso dove cazzo sono le scale? Ah, Kito sono quei Siamo fregati, le scale sono lontane Aspetta, allora seguo te perchè non so dove andare Di qua? La signorina, la signorina La signorina che lo debbia trovata Bravissimo F**k! No f**k! It's close, it's close! Yeah, it's close! Yes, it's close! Va Ok, try L'ho trovata, l'ho trovata! Mi so scared, mi so scared Ok Non mi sentono Si, ti sentiamo, ti sentiamo noi Sono morto Sono morto, ero arrivato, ero arrivato Io ero proprio dietro i dita di un posto sono morto OBS, riconnessione, eccetera eccetera Oh s***** Che bello, si può avere una riconnessione così schifosa? Eh sì, guarda, rimasto da solo Eh Naro, c'è Naro, però Naro sei online su... Su Steam? Che ti dobbiamo... Eh? Eh, sì Ok, allora fa Kita che fa il Parties Fate il Parties Eh sì? Ma io vi devo presentare, come al solito Ma che ti dobbiamo... Ho preso il Parties Oh s***** Forse sei cacato Forse sei cacato Ah, Nacho Ah, si è morti tutti E l'altro ero io Erano le due tipe Ah, ok Ero io Perché mi sono ricastato, ero dietro Kita Stavamo corriendo E siamo morti entrambi E sono morto Ma cazzo stavo correndo verso la... La vedo uscita Niente E poi non ho potuto fare niente perché c'era sempre Rachel in mezzo E' stata bravissima No, ero sempre con Rachel Io ero sempre con lei, infatti Mi sono fidato Infatti lei era brava perché in realtà lei stava in giro E mi sa che avevo lo Skander in mano E io ho cercato di distogliere e ho bevuto Il problema è che... Porca misera, stavamo corriendo io e te siamo morti Eh, perché nessuno riusciva a capire dove si è andato Era chiuso Era chiuso Che palle Era chiuso Se no, se no riuscivo Ah, tardi Molto tardi Sì, infatti Poi vabbè Il mio compagno è riuscito per fortuna bere A mangiarsi orso alla fine Quindi sono contento Mi spiace per orso però Succede Un nuovo invito No, mi è riuscito A ripristare Cos'è sto invito? Purtroppo non sono riuscito Perchè abbiamo amici No, non mi avete raggiunto agli amici Non mi volete tra gli amici di Stima Se non ci dici Mi ha inviato la richiesta Cosa dici? Cosa dice? Cosa dice questo signore? Adri, no Adri mi dice che è un arro Adri mi dice che è online Adri è online Su Steam? Sì Eh, azz... Non so E non vedo un arro adesso Adesso che mi ha accettato NARRO! Ti ho accettato NARRO! Wow Ok Tiè Due amici online KITA e Adri Eh, non manca solo che aggiungi ma Eh, io non so quale è il tuo link Eh, appena... Appena intende il gruppo Probabilmente ti posso aggiungere dal gruppo Va bene Non vedo un arro Perchè non vedo un arro? Io non vedo un arro No, mi è arrivata la... La... Lui che non ti accetta Secondo me No, ti ho accettato Io ti vedo Eh, ma non... Non ti vede lui per aggiungerti al gruppo Mi so Tutto rotto? Profilo Fai vedere se ho trovato qualcosa No Amici So che sei qui Mi invita a giocare Vedere la risposta di NARRO Sempre se arrivo E' tra gli amici Non ti vedo Esco io ogni... Si è buggato Devo... Devo rientrare? Nel gioco? Magari... Magari scompaio io Ti vedo solo io Oh, allora... Ah, la richiesta è la mia Eh... Kit, sei andato offline tu? Giusto? Sono... Sono uscito Ah, ok Adesso rientro perchè Non mi segnava NARRO tra gli amici Nonostante la richiesta Si... Si sarà... Allora si sarà buggato Steam Possibile Ho anche il gioco che non mi sembra particolare Si si, è molto bello Sabi il gioco Io lo gioco Si, il gioco è bello Però va fatto assolutamente in gruppo Con gente che puoi conoscere Eccolo qua A livello parlato Perchè ti puoi fare le trame In più E' molto più scherzosa da fare con chi conosco Piuttosto che a random Piuttosto a caso Ma io ci clicco Ma non mi... Ma non va Dove c'è... Ci sono le tre persone Sotto il del numero Adesso siamo in quattro Cioè è comparso un tizio dietro Non è possibile Io vedo me Poi vedo adesso Orso Che ha i capelli blu di Alex E... Sì E... Aspetta A me è comparso dietro un altro Chang Però non... E' uguale a te Quindi forse è un bug Si, magari mi sono sdoppiato in qualche modo Con qualche potere strano Sono... Sono magico Aspetta, vai si In Steam Ma io la vedo la cosa E poi mi dice Clicca per unirti Ci clicco sopra Ehm... Naro, come ti chiami su Steam? No Naro Naro e Bosto? Si, lo trovi subito perché ha due amici in comune Il primo che ti esce Ok Aggiungi un tesoro Oh... E quindi trovo un tesoro Ce la faremo eh Prima poi Ma ormai siete abituati Quando c'è la Space Barrier Mi lascio una chicca Mi lascio una chicca Occhio di spia Non funziona Dice riesce a vedere i nomi degli altri giocatori nel buio E' una bugia Non funziona Ok Cioè ho fatto Non funziona E' tutta una cazzata Invito Abbastanza Ho invitato Naro Vediamo se il mancarello arriva da parte mia Ok Ti dovrebbe comparire un pallino giallo sul simbolo del gruppo Sotto l'1 Ah ma direttamente... Eh si, non da sim Ma dal gioco Se tu apri il gioco Ti compare gruppo E ti compare proprio un simbolino Pallino giallo Tu si clicchi No, a me compare invita Vi invito io Vai vai Mi troppo invita me Però non ho orso Vabbè invita Kito o me e li possono invitare gli altri Ho invitato anche Adri Nel dubbio Nel dubbio Non ho fatto niente Ma aspetta Non è che magari lui deve ottenere un livello nel gioco? Non credo, no no No? Dai amici Naro schiaccia Facciamo così Sì Schiaccio in basso a destra Il simbolino di Twitch di Discord e l'altro Il secondo da sinistra Quello con i tuomini di più Sì? Io poi l'ho schiacciato Lui mi dice invita Ma non devi fare invita Tu hai presente in alto a destra Che c'è il lumino che esce dalla porta L'ingranaggio In alto a destra Sì 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 E fai i... Aggiungiti alla partita Ti dovrebbe mettere in teoria Insieme Perché è impossibile che non ti arriva l'invito sui tre oomini E quello sì Aspetta che magari... Dal gioco Prova dal gioco In basso a destra i due oomini col più Dimmi il tuo ID Il ID Dovrebbe funzionare per forza Sì Infatti lo sto spostando un attimo da Per capire Andrò Lo scorto da live No A boh Si attivano l'occhio voi È vero Non gli arriva il puntino giallo Non gli arriva In più gli va tutto a scatti Attivo Vai in basso In basso a destra Con i due oomini più Questo? Ah qua E io lo scopro fa un po' Dimmi il numero Ok 17 32 064 32 064 Sì Perché magari lo dobbiamo ancora aggiungere nel gioco Non credo Cioè non funzionerebbe Eh ma se tu lo aggiungi da lì Te lo fa aggiungere su the site E poi da the site lo inviti nel party Provo a chiudere e riaprire dai No 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 Eh provo a chiudere e riaprire Non viene Perché io non ce l'ho tra gli amici di Steam online Attualmente Io sì invece Perché se io vado su gruppo Vedo trovo Naro che è in gioco su the site E ha E io sto continuando a fare in vita Si può vedere anche dalla live Eh sì ma lo vedo E però non Arriva Perché lo sto vedendo dalla sua live Che non gli viene il puntino giallo Sulla cosa del gruppo È quello che non sto capendo C'è tutto bugato lui Oh Incredibile E così io Eh sta laggando qua Ecco Aspetta che sta ripartendo Ah ok Sì sì no l'ho chiuso Lo faccio non ripartire Enricamento profilo giocatore Magari provate a fare A fare lui il gruppo Non so Adesso io ho fatto il gruppo In teoria Sì vabbè Non so se io ho orso però vabbè Sì no Eh lo so Sabina Ecco Adesso io lo vedo online dal gioco Io adesso lo vedo online dal gioco Vai Probabilmente doveva fare un po' avanti e indietro con TheSight Perché non portava il suo profilo da sim a TheSight Eh sì Però manca sempre lui Però manca sempre lui Però manca sempre lui Maru Eh non vi... Cioè ho visto un pallino lì sotto Perché mi aveva chiesto la... Era probabilmente l'aggiungi Amico Ma non ho il pallino qui nel gruppo Vai vai Ti invitiamo in set adesso Non puoi non vederlo Vediamo Poi vediamo È un gioco molto carino in ten È... TheSight 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 È un gioco di survival Dove ci sono all'interno di un gruppo alcuni infetti E altri no Precisamente siamo in sei Siamo in sei in game Due sono gli infetti che devono uccidere gli altri E questi due infetti devono prendere sacche di sangue E boicottare quello che possono fare gli altri Perché scappano Perché sono... Vengono portati questi sei personaggi all'interno di un'altra in cui devono sopravvivere Quindi la mappa non è statica ma si scappa Ma se vi invito io voi lo vedete? Eh... Sì... Prova tu Vai Lo vedete l'invito Io ho sentito qualcosa Vito 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 Non è che devo fare qualcosa all'inizio Settare qualcosa Vito Chi è che c'è? Nem Sì io sono quello fico Io t'ho invitato Keto L'ho trovato Io Se volete riuscire a Paolo Magari adesso... A me non arriva nulla Divi... Ecco è Orso quello bugato Naro ci stai facendo bugare a turno Prima... Prima c'ero No E io ti vedo... Il bello che io nel mio schermato lo vedo Alex con i capelli blu di prima Lo vedo Eh sì ma anche a me prima si era sdoppiato Chang Porca miserio E' Naro E' Naro che bugga tutti Probabilmente se io aggiungo Orso Lo invito io e funziona Aggiungi tutti Madonna però che casino Aspettalo che avvio Posso Ci dici Eh... Aggiungimi alle amici sono... mi chiamo Orso Riscrivimelo se non vuoi Così tutto il mondo sa Non me l'ha detto E l'unico che non l'ha sentito sono io Eh guarda caso Guarda caso l'anzianità Quindi il messaggio Eh... Dov'è che si vede l'ID scusa? Lì il messaggio? Ah no devo farlo Da qui No ma io dicevo Quando fai su the site La cosa da aggiungere ti dice Il tuo ID è ta 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 Ah ok Ma io dicevo su Steam Comunque va bene Ah su Steam Eh beh se il Steam è uno Vediamo un altro messaggio col nome Non sto capendo una mazza Aspetta Paolo Lo aggiungo da qua Invita nel gruppo Ma perché ti dai in partita? Perché mai? Lo aggiungo come amico Che burdel Che burdel Che burdel E dovevamo partire alle 10 e mezza Io ti ho mandato la richiesta Vorso ti aggiungo Io... Ok Sono andato su Jurassic Paolo E ho fatto aggiungere amico Invita nel gruppo Poi non sono No ma adesso mi chiamo Orso Non sono Jurassic Paolo Però ho aggiunto... Ho aggiunto Narrow Quindi bono Narrow invito Quindi ora ti dovrei vedere E ti vedo Invitalo Invitam Vai Invita invita invito Invita invito Andai inviare me Evita dentro Fa niente Io invito tutti Chiunque ho su Jurassic Paolo OLE Niente E' Narrow che ci ha buggato tutti Ma capito E' lui Narrow devi fare via partita adesso Devo fare gioca? Si Gioca serve all'inglese Possibilmente E ce ne mancano solo due quindi Ma se aggiungi su dis Dove devo cliccare Fai gioca casuale Si In inglese Ti ho accettato adesso Si si ti ho accettato adesso Turco Turco Va bene Turco Ma cosa Turco Che poi lagga tutto Che tu hai problemi poi Poi ti crasha la casa Ti crasha Ti crasha Poi ti crasha la casa Tutto 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 E' bella ma Non credo serva un PC così Per performare Non serve un PC decente Serve la connessione giusta Per la connessione giusta Favamo il multi Twitch Bravo Io sto giocando da portatile Anche io ho giocato portatile Allora io ho quello da Tra l'altro Facciamo una serie di shout out Allora shout out C'è con noi Con la maglia numero 892 No oggi è diverso Ah oggi è diverso Oggi è diverso Il coso Lui è uno che ne sa E che sa come nascondersi Quando è l'infetto Invece in campo con noi C'è anche Nem Life Con la maglia numero 485 E non vi fate ingannare dal Diciamo dal numero alto Ma lui è uno che Anche se è l'infetto Riesce a Tirarti talmente Alla lunga Con le chiacchiere Che tu non capisci più niente E poi alla fine Stordisco Stiamo con Jigglypuff Ti racconto la storia della Marvel Ti stordisco Ho vinto Esatto Sì Oh Quindi io sono morto Perché gioco come Rachel E quindi E non me l'hai fatta giusta Da shout out È scritto solo È scritto solo shout Ho fatto solo shout Shout out Stavolta Orso è Alex Blue Ok Così almeno due personaggi Ho cambiato Ti lascio Grazie Mi sono padronito Mi sono padronito E guardate Tra molte virgole Insomma 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 Ok Oh Non sbirciate voi Cacchio c'ho il mosso in mezzo Attenzione Che fastidio Faccia Jigglypuff Ok Ma se io parlo Mi sentono No Cosa che devo fare Alt per Ah per parlare con Con Alt con tutti E V Mi pare Con l'altro infetto Ah sì Sì Con l'altro infetto Però Perché l'altra volta Nessuno me l'aveva detto Quando io Cato che Pagliusamo sparato male Salve Orso Se siamo tutti in Discord E uno di noi l'infetto Non è No ma per quello infatti lo dico Secondo me è meglio così Perché se no Non vediamo che cosa fare Non posso mentirti Io non so cosa Cosa bisogna fare Sto facendo cose Grazie Stai usando una mano a conquistare Cattura il punto Devo fare questa cosa O questo Dove siete Ah Questa è Chita L'impostazione di grafica è AI Chi? Che vuole? Ha detto Hans is infected Ok Chi è Hans? Ehm NOS Il tizio che si chiama NOS Ah il tizio che si chiama NOS Oh Naro Salve 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 Ah ok ok È inchiuso Messo Non ho sentito la motivazione Dovevo comunque spiegare un attimino a Naro ragazzi Perché se no Macello Eh esatto Cosa sto Oh 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 No ok Dov'è? Ehm Non lo so io non ho una torcia Quindi non vedo una mazza Eh ce l'ho io però Mi dovete proteggere perché Sì ce l'ho anch'io ce l'ho No sono morto aiuto Eccolo qua Cosa è lì? Arrivo Capici Cazzo amici Io sono con l'emorragia Sono morto Grazie Sabi Ehm Quello si l'ho ucciso Non può essere ucciso di notte Non può essere ucciso di notte Eh l'abbiamo soltanto fatto andare a terra Scusate io sono morto Qualcuno mi salva? Ehm Non abbiamo l'antidoto Non possiamo mi spiace Questo piacere Allora io seguo Questo punto Ok Allora secondo me è veramente Secondo me è veramente Hans Eh perché Prima non c'era Avanti Ma perché c'è il cursore del mouse in mezzo allo schermo Cosa dice Vabbè è andata così E non lo saprei E non lo saprei Dobbiamo scappare con i fusibili Che grida di terrore Preferivo morissimi necrosi Grazie Vedo che La mia chat mi vuole bene Io non li ho trovati i fusibili Quindi non saprei di Io terrai d'occhio questo nos Perché Caro c'è il sondaggio Mi raccomando E' un fregato Questa va in furia adesso Occhio che è davanti Va in furia? Mi entro un po' in notte Eccolo Eh Moruto Dietro 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 chitta Oh Ma che falle Ok Oh mi ha ucciso Fuck Preso Caro devi abbassare le impostazioni grafiche Che la ghicchi Ok Allora aspetta Viste prima Posizione Metti tutto basso Non so Adesso ti Ma che c'è ancora? Vedo Rachel Beh dove cazzo è? Vedo che Rachel non è la tua alleata Tutto basso Ok Faccio Ma non la vedo neanche Eh infatti Non la vedevo Sai che quando sei infetto La vedi bianca In mezzo alla mappa Non la vedevo Non so perché Era lontana Eroi Ma di solito te li fa vedere E lo so che eri tu Eh si L'ho capito da bastardo quando ti ho Ti ho Checato Quindi Benissimo È crashato Dacet Ancora Sì però non il PC Non il PC Perché ha cambiato le impostazioni grafiche Ah beh Noi si diverterà Sì Però io c'ho la Però ora non ti vedo più Allora Aspetta un attimo Faccio che riesco anch'io e arrivo Perché c'ho sta cazzo di freccia del cursore davanti eh Però ci sono Ma non Guardate se mi invitate ci sono Posso accettare da stim Allora io mi sto entrando Allora io mi sto entrando Ma io mi sono buggato No ok Cazzo Avete finito E non nemmo adesso Ma allora sei io? No io ci sono sto entrando sul gioco Ah no perché tu sei Ci sei Ma perché a me non arriva quel famoso pallino che dite voi? Non capisco E allora sei tu mai Vi invito io Va bene Quindi subito Ok Ok Buggato Però a me si è buggato Si è buggato Nem Sono buggato? Eh perché ti vedo in party ma non ci sei sopra E nemmeno io Non ci sono nemmeno io in party Non vedo nessuno Ok da Provedo il tuo personaggio Visto le mie nuove di carriore di prima Sono unitati tutti Quindi non lo so Sono tutti motivati A votare le hierofia Va Proviamo ad andare tutti da name Eh provate a venire magari da me Se per se andarlo lo vede Aspetta che c'è un pallino Ora si Alleluia Orso Ora funziona Dimmi che manca a te Sì Sì Sono la salvezza Non tutti Sono la salvezza Allora Quell'italiano Che è libero C'è il capelli blu lo vedo doppio No è giusto è giusto Perché sei tu che sei senza capelli blu Faccio Rachel Giustamente Sì se volete fare i personaggi diversi è uguale C'è io faccio sempre Ah devo andare qua Vabbè Tu c'è ormai te cavo i per forza L'ho su tutti i personaggi Ce le su tutti E io non c'ho niente Io infatti c'ho solo Grazie Sabi Tolgo la maglia Metto la maglia Metto la maglia Tolgo la maglia C'è i vestiti vanno per tutti Quindi Cambiano solo le pose Da quanto visto C'è la posa singola di ogni personaggio Però i vestiti sono per tutti Però il togli maglia Mi sa che ce l'ho solo per Chang Però Perché forse è un suo vestito Il togliere la maglia Perché fa vedere la macchina Sì può essere Anche il pigiama con le paperelle È solo per Chang Hai visto che è simpatico Chang Magari Eh vuoi perché faccio lui Yakuza E poi la maglietta Maglietta la metto La posso mettere a tutti No puoi mettere Eh perché allora quella è per tutti Ma io non so se alla fine Mi sei visto quella skin Tu Tukita che mi stavi fotografando Mi sei visto quella skin nera Delle dell'infetto Perché l'ho trovato Ho trovato la skin Pitture di guerra E mi si dovrebbe vedere quella skin nera Sono tornato al Sì Non Non ha sincronizzato No ha saltato la partita Sì è saltato Sì In generale Eeeh In che senso interno Ecco perché è gratis Perché dà problema il gioco No? È proprio gratis Perché non mi fa cambiare il personaggio Perché non hai Perché non hai Perché non ha personaggi No i personaggi li puoi cambiare Però non ha Skin Comunque adesso sto trovando la partita Quindi è tutto bloccato Come sempre Io sto fermo Non faccio niente Passate dal multi twitch Ah comunque signorinelle domani San Valentino Vero? Già Quindi? Non si può dire in live Vuolete una rosa? Non si può dire in live Io posso Io posso andare da solo Fuori a cena Io e io Cordino doppio E giro da un lato e dall'altro Sì così laggono tutti e due Un casino poi Uno arriva a cena e l'altro dice Ma non mi ha invitato? Questa era da stand up Ero proprio Ero l'altro I problemi Si lo immaginavo Ho trovato Ho trovato Ho trovato Ma no ma è perché è la versione che danno a me di qualsiasi gioco che è bugato Il resto del mondo funziona Però le versioni che installo io A parte Hearthstone Che quello funziona sempre Chissà come mai Il resto dei giochi Ecco appunto Vedi un altro Che sa di Il singolo Entra Entra su Hearthstone E dice Ah ben ritrovato Naro Appena aprono il gioco Sì ma tu che cazzo sei? Esatto Dicono Quindi vuoi giocare Ma vuoi giocare con i tuoi amici? Davvero Ve lo stai dicendo Ma torna su Hearthstone E c'è Hearthstone Che compare la finestella E' stato fatto un aggiunto per te Naro Delico per solo lui Io domani mi dichiaro e butto dalla finestra Dai Dalla finestra No Cosa? Secondo me sono l'unico che si vantacchia la signorina Com'è possibile? Sì Esatto È vero Grazie Iris Salutiamola Non sta guardando perché Non penso ce la faccia con la connessione anche lei quindi Se c'ha voglia può venire a farsi due ciance La prima andava quasi bene Ah porca Se non fosse che Ho trovato i fusibili Però per il resto funzionava eh Sì Eravamo riusciti a individuare il cattivo Eh sì Anse lui era sicuramente Infatti poi stavo cercando di disfiare ma Avete capito che ho fatto le battute da terrorista prima Che dicevo ma così non posso mentire Eh eh Sono stato simpatico Dove siete amici però? Facciamo lo stesso game Ah boh Sì penso di sì 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 Ho trovato Kita ok Ok io sono al centro qui Ho conquistato una roba con il vecchio Che ha una pistola rosa Quindi io gli sparerei subito Sopra spesso e volentieri c'è la lettera Ok e Rachel è orso Quindi orso sono dietro di te Ma eccomi ragazzi sono qui Dove è la leva? No non trovo la... Eh infatti non trovo la leva Qua dovrebbe esserci una leva All'altra Hai capito? Dovrebbe essere sempre nello stesso posto teoricamente no? Io dovrebbero essere se non nello stesso posto abbastanza vicine Qua c'è un... Ah qua c'è un medic Guardi sotto Anse ha trovato la leva forse Anse forse ha trovato la leva La... 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 la manopola L'ha trovato Il tiginio Lei si è dobbendo il tiginio Come si chiama? Non capisco un cazzo di quello che sta dicendo il tizio Vabbè Fa niente Eh vabbè è così Sarà un turco Lo nero in inglese Vabbè Ohhhh Aspetta 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 Orso Di là ero un due sacchi o una? No è... No no è sempre quello Ok 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 E qui E qui E qui Qua c'è un fuse? Ah no è il tizio sulla sedia No era... era quello sulla sedia Che spavinto Che spavinto Che spavinto L'ho scammato L'ho scammato Inizio Poi Orso tranquillissimo no? Sulla schiera vai tranquilli E li tranquillissimo Ma si non ti preoccupare al tempo Ormai Tutto si risolve Sempre loro qualcosa Perfetto Ah perfetto Orso io scapperei subito Se poi sei tu ti spara Perché spara? Quindi Io sono già nella... Nella safe zone Naro ce lo sta facendo Naro Che secondo me è lui Non so qual è la safe zone Oh ok Safe zone Mi dite qual è la safe zone Come in safe Ok no Sono delle... Nel caso ci sono delle... Sono morto Io non so qual è la safe zone Allora io Posso dire una cosa Che faccio le mie deduzioni Allora Io sono sicuro al 90% che Orso non sia Perché è qui con me da mezz'ora Quindi... E lui può dirlo stesso di me Perché... Ho appena... Ho appena sparato a qualcuno Ma non... Credo fosse Naro a sto punto Perchè l'hanno accusato L'hanno accusato L'hanno accusato E... Che gli ho sparato Possible is Alex I'm sorry What did you say? Is Alex Alex is dead Alex is dead Eh abbiamo sparato allora Si conferma Ok... Is Alex E' morto quindi... We think... Is Alex Ed è morto ancora Ha detto che è morto ma non c'è infatti Che cazzo sta succedendo? Where is? Where is? Eh vabbè è così cari Quindi era Naro 1, 2, 3, 4, 5 Siamo tutti qua Ho paurissimo Allora Io sono... Io sono morto perchè non sono arrivato in safe zone E mi arriva a fiuso E devo fare fosse la safe zone Fusibile l'ho già piazzato Nella... 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 Cosa c'è ora? Naro ti compare nella mappa Praticamente vedi delle scale dove dover andare E lì va nella safe zone Cioè procedi nella... La safe zone Ah sei morto dal gas tu? Ok... Si, io sono morto dal gas Allora... 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 Ecco... Ehm... Allora... Fibili aspira Ehm... Mi interazione non è... Perché siamo... Ehm... Siamo insieme per due minuti Qualcunamente Ehm... 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 Cosa è successo? Un hoste? Un follow? Un follow? Un hoste? Cosa è successo? Eh... Naro parla Scusate Ehm... Ehm... Ripeto? Sorry? Ho trovato Davei Ho trovato Davei Ho trovato la strada Ha trovato la strada Sa la strada Però secondo me ci sta... Secondo me ci sta peitando Spenta... Orso tu sei con me che siamo sicuri io e te Che secondo me a questo punto è Kitta O questa tizia qua Tanto adesso... Guardate il dinamo dell'hoste Scusate Se uno è... Naro parlo Se uno è Naro E gli altri sono... O Nina o tu O la... O Hans Perché io... Se noi siamo in quattro e ne manca uno Sai capisci? Ehm... Siamo in quattro e ne... Ehm... 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 Ma lo uccidiamo questo? L'ultimo che è arrivato adesso Noi eravamo in quattro Aspetta Lo ucciderei Kuba Best DUDEN Where are you before? Why... Why you aren't together with us? Because I was placing this view that nobody of you plays, you know? Sure? Ehm... Ma... Mh... 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 Si traduce Mh... Mh... I'm Sherlock Mh... Cos'è... Oddio... Ti stanno... L'hai trovato? E poi direi no something you Chi è innocent? Ah, Chang! Mi ho capito! Mi! Oh, mi! No, no, no... Io sono innocent Io sono... Io sono innocent Io sono Chang e sono innocent Innocente Lissa, vai a giocare il Fuse Ehm... Lissa, giocare il Fuse Hai il Fuse Ehm... Rachel, hai il Fuse Io... Non so il Fuse Io... Non ho il Fuse Non ho il Fuse Non lo trovo Qua... Qua c'è l'uscita, eh? Eh, appunto Ma io non l'ho mai trovato il Fuse No, l'ho preso io Ah, ok Allora no Io sono Chang Uno... Uno l'ho trovato Oh god Eh, secondo me è lui E così apri la porta Eh... Ah... L'ho... È open Ah, mi hanno sgamatissimo Eh, te l'ho detto io Oh, sta arrivando, sta arrivando E lo porto dietro Vai, Kita Ah, uno me lo so portato di più Yes Tiè, tiè Nice, ci siamo salvati in tre Eh sì, I'm the best detective Anni quello Eh certo, perché io sono morto subito Eh, ma no, ma perché poi io... Io... Ci eravamo rimasti tutto il tempo insieme Quindi ero per forza gli altri tre Per forza Perché se Orso voleva mi uccideva Io potevo uccidere lui Quindi Mh... Perché Kita Devevo sempre... È quello che... È certo che ho deviato swans E non è la merda Infatti Mi ho detto Sei sicuro? Ma scusate Adesso io che devo fare due domande Perché non ho capito come funzionerà Io devo bere le sacche di sangue Eh sì, sì Senza farti vedere E senza farti vedere Ma infatti non li ho visto Puoi prendere anche i fusibili e non piazzarli In modo che tu li togli sopravvissuti Mh... E poi tirare giù le luce Ma guarda i sacche di sangue devo bere Per poter parlare Si comparare La parola sotto da radioattivo Si comparare Quindi più di due tipo 3-4 Una roba più giù Sì sì Più è piena Più è piena più sei forte di notte in pratica Ok Ma come faccio a trasformarlo? Te lo dice lui quando vai al buio Ti dice di Perché appunto Di notte Quando è notte se hai un po' di sangue bevuto Puoi trasformarti Certo Dinamo certo che puoi giocare con noi comunque Dinamo certo che puoi giocare Assolutamente Assolutamente sì Siamo appunto in streaming Insieme di Yenaru a Pozza Quindi se appunto Qualcun altro Soprattutto che di quelli che conosciamo Ha Vole e vuole giocare con noi Perchè Più siamo in team No strano Che ci conosciamo Meglio è Perchè poi parlare con la gente in inglese Facciamo casino Tra di noi Infatti il tizio neanche lo sentivamo Che aveva un microfono bassissimo Lo sentivo un cazzo Ma poi era tipo indiano Si abbiamo un accento molto straniero Se così si può dire Ok l'artico è la mappa che mi piace di meno Perchè tutta bianca Non è E' più facile bere O vedere qualcuno che beve Però Eh Perchè è più piccolina Si e poi lo scappare Mamma Ti congiene il culo Poi Succede Nell'artico È tipico Tutti qua Quando si accettano le luci Che devi scappare C'è tipo Ci sono tre icone gialle Tipo Con delle scale Uno meno che sali sulle scale Che sono le vie di fuga Si Nella più vicina Tu vai verso quella direzione Vai verso quella direzione Prima che la barra in alto azzurra Che sia ossigeno o freddo Ti permette di morire Tu devi comunque andare verso la prossima zona Ok Ho capito Il fatto di fare full party Detectivare tra di noi Questa ipotesi Mi rende molto più divertente il gioco Perchè possiamo parlarci Ok Io sono il docente Porca croia E' chita E' chita Anche secondo me Ogni volta Ogni volta che Adesso inizia la streak Inizia la streak Eh? Con quei capelli Ogni volta che parto E premo corsa Shift tab Shift ti prende coso? Vero? Sim ti apre Subito Ogni volta che il personaggio Inizia a girare da solo E' quello il problema Io devo provare 60 volte Shift Per toglierlo E sono lì bloccato Cazzo che ansi Adesso guarda Adesso ci riprovo No Adesso non ve lo dà No 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 Solo quando ti alzi Perchè appena ti alzi Devi dare un po' il gioco Oh my god Non riesco colpirlo Inizia da buttare come un cretino Chi? 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 Sei tu? Hai detto che non riesci a colpirlo? Chi? No ho detto che non riesco a colpire il bersaglio questo qua Sono scherzando Faccio dei depistaggi Potrei essere io Naro? Naro è quello che lo vedo Ecco Io questo coso Guarda Io questo coso con coltello non riesco a farlo Nembino io Non me lo colpisce vedi? E' finto E' già spento L'hanno già fatto Ah vabbè ma L'ha fatto Naro Senza la pistola non lo riesco a fare Non ce la faccio Non ce la faccio Perché non c'è la birra in sto gi- Secondo me è per beatbox Si ma anche io infatti per colpirti Prima ci ho messo un po' eh Naro dove sei? E' qua E' qua Sto camminando in giro Secondo me è Naro Non ha preso il fusibile Ma di che forma sono i fusibili? Prima di tutto Eh ma cazzo mi avete messo qua il fusibile Ma vaffanculo I have a fuse Uno vicino I have a fuse too Fusibili Fusibile I put the fuse Troi mi rimane quello sopra adesso E' qui a me mi dice che è full Si Non dall'altra parte della mappa Eh Naro Se ti devi trasformare Fallo adesso e facciamola finita Dai su Forza No Correte Correte nell'altra zona Correte Corri scusate Shift Shift Oh fuck Ho sbagliato No non mi direi che gli si bug per sim Merda Sono distante amici Io seguo Nello Si segui me segui me Corri però Corri fast Corri Naro Ci sei? Corri Ci sono ci sono Temperatura corporea è quasi Bravo ci sei? Ti sparo Così la facciamo finita Qualcun altro? Qualcun altro? Io ho un localizzatore Quindi possiamo usarlo per vedere qualcuno se fa cose nostre Ok Usa lo scannerizzatore sull'infetto Beh grazie 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 Ok Ma ci siamo tutti? C'è il resigno Santo Io ci sono nascosto da qualche parte ma morirò tra 3 secondi Probabilmente Che sei nascosto Naro? Cosa c'è? Qui è qui Qui ce l'ho Io dall'inizio quello qui Non è nascosto allora No Naro non sei nascosto per un cazzo Saffilo Naro ho shoo No Scusate ho sparato avrò che ho visto gente Why you shoo? Why why Naro Why Ho coltello La facciamo finita Oh no Ehm Che potecchino Che male Mi sono spaventato E anche io Cazzo Aspetta che tiro la mano Ho visto Ho visto persone Vi mi sono spaventato Però in effetto passero Kitta, io e te, direi che siamo a posto a questo punto Tu sei innocente, ma è stato dichiarato E' stato dichiarato che io sia innocente Eccolo porco cane, lo vedo Dove sei? Dove sei? Non lo so, io sono sopra Naro isn't Prendo le punizze Dove cazzo siete? Che ne so No, Naro non trasforma, è innocente Aspetta che prendo un fusibile intanto Com'era per parlare, scusate che non manco altro Ok, it's ok It's ok Naro? Si si ci sono, ci sono Vieni dentro Ah, I put the fuse Raggiungi il prossimo edificio ragazzi E dov'è l'edificio, scusate E' un nesaccio So Aspetta quello lì davanti è uo Forse sei tu quello davanti Si si, sono qua dietro Io non so No, sono dietro a Los Angeles Io sono dietro Kita Kita il capellone sei tu vero, giusto Quindi sono dietro di te C'è anche sparo, sono dietro Kita Io sono davanti a te, cioè io sono dietro di te Ah scusa, ho visto Nina coi capelli Scusa Ok, io ho bisogno di... Allora allora, io non sono Kita c'ha l'attrezzo Naro è stato attaccato Quindi Orso ci dividerà qualcosa Esatto Orso scappa, non dice niente Orso non dice niente Come? E qui 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 Allora Allora Scusa 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 Mi ha conferma l'innocenza L'isa ha il gadget Naro è attaccato Quindi Rache Aio! Aio! Mi hanno tirato giù Aiuto! No! Why me? No! Scusa 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 Eh, se non avete un antiloto io sono morto Lisa ho il gadget, ragazzi O tu Rachele Or No! Scusa 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 Ma Lisa ho il gadget, ragazzi Mi ha scannato Mi ha scannato Mi ha scannato Sì, ha scannato Sì, ha scannato Sì, ha scannato Sì, ha scannato Per vedere se sei un'innocenza Oh Sì, tu Eh Tu, invece Eh Cosa avevo detto? Eh, niente, era lui Ma io vedo Che lo ma vedo Naro buggato Ah m***a Oh, era l'ultima! Gattod merda! Allora, bisogna ottenere i fuzzi. Ehm, lo prendo, lo prendo. Ho un'altra persona, è tutto. E' qui, lo prendo. E lo prendo, non ho l'ammo. E' qui, lo prendo! E' qui, lo prendo! Lo prendo, lo prendo! Lo prendo! Lo prendo! Sì, lo prendo! Il gatto secondo me non sopravvive, Naro. No, sono... Porca troia! Perché non sopravvive? Ah, è scaduto il tempo! Ho vinto! Easy! Non siamo sopravvissuti perché non sono arrivati all'uscita, e io avevo scoperto che era Orso, lo sapevo che era lui! Altro, però, a Uma Uma, non sono riuscito a far mai niente. Va bene, in amore. Ma perché li ho messi davanti, gli ho detto, o sei tu, o gli spara lì che non ho munizioni. E lui è stato fermo, porca troia! Ho fatto il detective! Non ho capito tutto! Dai! Orso, mi hai trollato male! Perché lui è stato con me dall'inizio e ha bevuto di non spesso! Ah, erano Orso e Kita! Ma Kita sempre! Ma com'è sta scuola? Eh, ma riesco a fare sempre poco! Era Dinaco! Ah, non c'era uno che voleva giocare? Dalla stream, no? Si, hai detto 5 minuti e arriva! Si, siamo su Discord! Eh, no! Oh, ero io l'altro! Il problema è che... facevo fatica! Non c'era un po' di niente! Hai il Discord Space Variety, Dinamo? Cioè, era Naro che mi seguiva Uma Uma, tutto zitto zitto, perché si perdeva! Io ti seguivo, sì, perché non sapevo dove andare! Eh, si, eh! Mi sono abitato di te, perché mi avevi scannerizzato! Mi sono abitato di te, perché mi avevi scannerizzato! Infatti, eh! Io avevo lo scanner mica per niente! Eh, ma perché io non so se lo puoi usare per forza o meno, capito? Cioè, non... Lo prendo! Eh, ma perché io sono troppo abituato a conoscere il TTT! Va bene, Dino! Perché il detective può usare l'aget, è quella la cosa! Sono abituato con quello! Il dico problema è... Usalo sugli infetti, beh, grazie! Ti facevi una foto, scusa! Cazzo della scelta! Vabbè, comunque voi ci avete già giocato più e più volte! Io sto facendo le mie partite! Sai qual è il mio conteggio di partite? La quarta! Sì! Sai qual è il mio conteggio? La seconda! Ma le prime sono così, devi capire le dinamiche! Poi le mappe sono tre, quindi... Non è che puoi sbagliare! Le abbiamo viste tutte tre, in questo momento, con questa! Sì sì, le abbiamo viste tutte! Sono quelle le mappe, non... Sì! Sì, sono un giro! Se ti muo, inizia a girare il visuale! Oh! Che... ah cazzo ce l'ho! Cazzo, metto a fare il giro io! Cazzo! Eh, ormai sto iniziando ad abituarmi! Poi, vabbè... Chiacchierone! E quindi... Accuso! Sì, lo dici! Eh sì! No! Ho mandato il gadget! Ho mandato il gadget! Ah, ho mandato... C'ho la fotocamera! Questo chi è? Cosa che... L'ultimo che arriva e spara in alto ti fotte le cose è veramente brutta! Cosa è successo? Spargami! Che senso ho sparato in alto? Ho fottuto le cose! La torre... E' presente che c'è la torre? La torre è quella con gli obiettivi a cui sparare? Ma qui è la porta chiusa! Sì! E spari all'ultimo... Quando magari uno ha già fatto tutto... E te li apriete! E gli freghi l'oggetto! E' una cosa orribile! E io adesso l'ho fatto col coltello da solo la macchina fotografica! Visto? Io c'ho la torcia! Io c'ho la Nikon! Io non c'ho niente! Cercamolo! Non c'ho capace di trovare niente! Dai dai! Ce lo siamo fatti della cadera per darvi... Faccio il box! Dov'è? Il box? Dov'è di... Si fa salire... Prendilo... Uno lo prende! Ah l'ha preso orso! Ho orso! L'ho preso io! Ok, non è che siete un'altra volta... Ehm... Ho un problema! Sei! Sono... Sono incastrato giù sotto e non riesco per risalire! Sì! Nella piscina! Si! Ecco, lo sapevo! Guarda che venne così! Ho trovato uno, ne ho trovato uno! Non c'è modo di salire! Uno là! Ce n'è uno là! Guarda, vi indico! Ce n'è uno là sopra! Però io non so come arrivarci! Dov'è il dito che indichi? Aiuto! No, la luce! La luce! Ah ok! E devo andare... Quel coso! Quel feud! Ah eccolo! Ho trovato... C'è Hans! Mi ha parlato... Mi ha detto orso! Chi? Cosa? Hans mi voleva dire qualcosa! Ha detto orso! Però non ho capito cosa! Hans? No! Non c'è... Non c'è modo di risalire da qua! Sono incastrato! Eh... Eh perché... Secondo me è l'infetto! Mi serve scalare! Ho trovato un altro... 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 Trovati! 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 Siamo sulla stessa barca! Io non ne ho bisogno! L'altra zona! Io... Io basta che dico... Facciamo qualcosa... E si fa qualcosa! E... Devo vedere cosa fare! Trovatemi! Io morirò qua perché non ho... Io sono già nella safe zone! I'm in the safe zone! Siamo in quattro! E io sono l'unico nella safe... Cazzo! Quindi... E c'ho la macchina! Sono con Fenrir! Ciao eh! Amici! No! Qua siamo in quattro! Cioè... Name e Naro! In teoria! E ye ye! Hai qualcosa da dire? Io? Siamo in quattro! Ne mancano due! Ma io sono nella safe, ragazzi! Ma io sono nella safe, ragazzi! Anarchia... Ok! I'm in the safe zone! What? No! Tu sei la safe! Eh si! Io sono stato il primo ad arrivare! Perché ero... Ho messo il feuds... E sono andato subito! Siamo noi, allora! Eh eh! Eh si! Perché io sono... Qui nella safe! Da mezz'ora, tipo! Io... Io ho perso tutti! Dove cazzo siete? Io ho... Adesso sto... Tiro l'elema qua! Però sono già... Dietro... Rumore! Ah, ok! Ho trovato Kita! Aspetta, qui c'è l'antidoto! Però... Io qua mi perdo spesso e volentieri! Anche a me che non mi piace! Sì, non mi schifisce molto! Aspetta che... Io credo di aver trovato... Oh! Facciami! Ragazzi, io faccio la cosa della torre che ci da l'antidoto, eh! Ok, io ho preso l'antidoto! Cosa? Ah, ok! Il coso dove spari! Sì, sì! Non capivo! La torre, scusa! La torre nera! Oh, god! Io, io... Io ho l'antidoto! Io ho l'antidoto! Ah, ok! Antidote! 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 Idiote! E io sono innocente, quindi! Sappiamo! Ok, sono al centro! Oddio, perché spuntano muri ovunque? Che cazzo! Che non vedi un palmo dal naso! Sì! A questo dovrebbero... O dare un... A base ai personaggi... O più torce! Oh, oh! Ho trovato! No? Eh, ma la torcia la trovi, come ho già detto! Eh, lo so! Vai al prossimo piano! Non servono più fusibili! Ok! Eh, così! Sono privato! Non posso venire sul detective! È un gioco dove io muoio male! Sei morto? Eh, già da un'ora! Perché sono rimasto incastrato lì sotto la piscina e non c'era verso il mio inferno! E tu? Ma va! Ah, ok! Vabbè, per sapere! Però io muoio a caso! Eh, ma... Anche noi non conosciamo le mappe! Io sto seguendo il simbolo e ci sono arrivato! Mir? Anyone? In the safe? No! Sono dietro di Tynever! Ah, sei tu? Eh, minta no! No! Sono dietro di Ty, sei tu! Ma! Vediamo! Ah! Passiamo in tre! Chi manca? Manca... Uno, due, tre, quattro! Manca Nina! Manca Nina! Where's Nina? Ah no! Black è qua! Black è qua! Nina è arrivata! Nina è arrivata adesso e ha lo scanner, ragazzi! Nina! Nina, have you... Scanner? Nina? Eh... Dudu? Eh tu? Don't hear it! No, ha detto Anzi si non sente! Ah, ok, ok! Ma l'ha detto di... Ma non ho sentito un cazzo perché era bassissimo, no? Eh... Anzi è stato scandalizzato, quindi siete voi due! Mandatemi Discord! Te lo mando subito! Noi due? Eh sì! O tu o lui! Se io... Se io premetto che non sono... Mmm... Io no! Eh nebbene io! Io ti c'ho la macchina! Eh! No, ma io dico... Cioè... Se... Se non sono io... Eh... Anzi è innocente! Sì! O i Nina un'altra volta come i Kita che aveva fatto viva la macchina! Oh shit! Eh... Sono in furia! Arriva! Eh... Mi manca uno! Mi manca uno! Mi manca uno! È Nina! 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 N facilità! Nel spavento! Venite venite! Kita vieni! Isdina! Isdina! Kita ci sei? Sei trasformata! Orso vieni però per l'obre di dio della luce! Chi è? Eh! Mi ha ucciso! Yes! Eh si! Non me lo porto nella tomba Hai visto la prima volta? Io sempre con Narro faccio... Va bene sta cosa Che succede? Ma come... Era Narro è finita No è finita, l'hai ucciso tutti Noi siamo fuggiti, io sono fuggito Ah ok, no io sono morto Lo solo te infatti Noi abbiamo fatto il trenino Avete fatto il trenino, io ero ultimo insieme a Orso Mi sono fermato mezzo secondo per trasformarmi Osho mi ha superato e poi l'ho preso Ah c'è quel fixaggio lì, ho capito Eh io sono riuscito a scappare subito perché stavo seguendo il vecchio Eccolo qua Dinamo? No, ho mandato il link del Discord Eh appunto, se appunto Dinamo vuole venire lo invitiamo adesso Prima di iniziare il nostro... Si Dacci il nick di... Dice che su nick è Dinamo Su sim Su sim Su sim, quindi fatte da sim Noi una fe... Ci sta, ci sta comunque Eh cazzo, non posso farla Ah già hai vero i break Quattordicimila Quattordicimila Eh anch'io quattordicimila Lul Ottomila Eh io li faccio tutti Io non ne posso mettere i perk Mannaggia me Eh eh, occhio di spia però Fa schifo, cioè non funziona Occhio di spia Se è innocente dovresti vedere i nomi degli altri giocatori nel buio Ma non funziona Non è vero In realtà funziona solo se siamo nel party Su metterli i perk Qualcuno mi spiega sta cosa dei perk? Cosa conviene fare? No, il primo Ti ispira di più Tantili puoi fare tutti Eh ma poi fai quello che ti ispira Papi soprattutto adesso che avrà fatto due partite avrà solo una cosa Adesso ho sposto il Dinamo Con l'Ur e poi lo smutiamo Tutti due i permessi eh Beh ma pian piano li puoi sbloccare tutti Buonasera Eh Dinamo da quanto tempo? Abbracciona buonasera Gitanaro Eccolo Minchia il Dinamo Con la mannacca Porca troia La mannaccia Minchia Com'è sto gioco allora? Eh buono buono Perché io con Dinamo ci avevo fatto le ruolate di Dino Se capisci come funziona Per me Allora dobbiamo innanzitutto Nano tu e Amici di Sim? No Eh te 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 Allora Anza Ok Allora aspetta faccio io Dinamo ti chiami Dinamo Ovviamente Dinamo Solo Ok Ok Allora Comunità Ah ma ne puoi avere solo uno Ok Di cosa Orso? Di quelli che sono sullo stesso livello di Perk ne puoi avere solo uno alla volta Devi scegliere No ma li puoi sbloccare tutti No io li sto sbloccando tutti Ah è vero però devi selezionarlo Ha ragione Però devi selezionare la strada È vero Da quello sopra partono due frecce E tu li devi selezionare È vero adesso È vero infatti si illumina la strada verde per dirti che tu hai selezionato quello Ha ragione è vero Giustamente tu li puoi comprare tutti ma tu ti puoi fare uno Tutti però ogni volta puoi scegliere quale usare È vero ti faccio un setting personalizzato È vero sta cosa ne avevo notato Probabilmente l'abbiamo fatto perchè non ho fatto caso Aspetta Che cazzo è per aggiungere? Porca miseria Perchè non mi piace Steam Allora aggiungi Quindi vabbè non bloccate occhio di spia che non funziona Quindi non funziona Ok ti ho aggiunto Infatti io sono Strada per andare là ed è fallito miseramente Eh sarebbe utile vedere Comunque adesso ce ne manca solo uno mi sa Ok di nuovo Gari sai quando miri ti fa vedere il nome però non funziona comunque Neanche quando mi... quindi con lo zoom? No Eh quindi non funzioni Cioè Che merda Dinamo tu hai invitato Forse quando vuoi la luce Quindi Quindi Matematicamente uno di noi È un inferto Eh sì per forza Per forza se siamo in cinque si Io ho invitato In cinque si gioca In sei Dinamo In sei Però ci sono due infetti Quindi uno di noi sarà per forza infetto Tu ho invitato Dino Una volta abbattuto Ma ci sono già Ma che è il talento quello che dici te? Che si vedono i nomi? È uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sei Ho portato la nona riga sulla destra Eccomi Eccolo Mi cacodile mi ha dato giusto Ah lo sei tu il problema È così Vedi Antenna Se ci sei ancora caro come hai visto Al volo Al volo Dinamo è entrato E io invece Come sempre Ho serie di problemi Arrivano Quaranta minuti Il ritardo E non gli fanno i giochi Ma è la connessione o è il pc? No è lui È tutto È tutto È tutto È anche la persona Scusa tu che Che processore è scheda video? È un i7 960 anni Il computer c'è tu Alla connessione Si No No Perché c'è la fibra Quella fatta Quella fatta Quella fatta Quella fatta Devono fare sicuramente Sì Infatti funziona Ma tu vuoi mettere la fibra per fare lo stream? Sì Ma cosa stream? Hs perfetto Ti diamo la migigia per Hs Per gli utenti Priati i giochi unica E basta Esatto È la limita È più scarso Sì Ma le volte l'ago anche con Hs Un po' come il psicomato Piegatemi come funge Allora Si ammissimi Niente che si muore sempre Naro muore E tu vai avanti Tu non lo scegli È una led Si muore sempre Sì Sì Ma se io guardo lo streaming di Naro capisco sempre È tutto Stamente Quindi non si gosta Vabbè Quindi in teoria non dovreste guardarlo Facciamo fuori prima il tizio che non è con noi E poi spariamo a Nap E poi c'è la giochiamo tra i miei E poi c'è la giochiamo tra i miei E ora sto finendo un disegno che è compito Ho capito Oh no Noi l'ammazziamo Il tizio che non è con noi Potremmo sempre uccidere le fetta Eh sì perché Ci diamo Poi Poi Che loro vanno rischi Sì proprio Noi uccidiamo il tizio con noi Poi Naro morirà per cause naturali E ce ne giochiamo noi 4 Per cause naturali è fantastico Poi alla fine si scopre che di noi ho un grosso gioco E ci trolla tutti Oh bene Ok Piacere C'è una cosa buona adesso Ok no Ovviamente Ho imparato a non roteare appena inizia Però mi si avrà ancora Sì Sì Sono andato avanti verso di te E mi sto ruotando Comunque dirò molto semplicemente Siamo in sei Due sono infetti Questi infetti bevono il sangue che vede in giro per la mappa Fuicottono prendendo i fusibili Quindi non mettendoli Quindi non Come vedi i nomi? Eh Grazie Sabi di aver moderato la chat Buonanotte Buonanotte Sabi Cosa fai Dabbi? Ho visto NEM bere qualcosa Che significa? Crocio Ho visto NEM bere qualcosa Che significa? Allora Hai visto per qualcosa? Diromo non iniziamo Ok Allora Io con Diromo ci ho fatto le roulette All'ombre di Dio Ah se tu vedi Naro Naro che beve qualcosa Spana lì Si Ho visto NEM bere qualcosa Beve qualcosa Stavo bevendo l'acqua va bene Nella vita vera? Si si davvero ho visto Ho bevuto l'acqua Chi vuole il fucile? Chi è? Chi è quello lì? C'ho già la macchina fotografica Se... Naro Vio Naro A destra Qua Qua dietro Sono qui Un colpo Me lo devo giocare bene Allora Mettiti qui Mettiti qui Si 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 Mettiti qua che prendo il fucile Che culo Che succede? Minchia Mettiti di che prendo il fucile Qua c'è il più vicino Ma che succede? Aspetta che c'ho una torta Io I piazzi fusibili Ehi Naro un passo in ti qua Andiamo da... Io ne ho uno Ok Mettiti sopra per la forza di Dio Naro Oh shit È qui Oddio Si è trasformato lì dietro Chi è? E io scappo Tranquillo Io il fucile Eccolo lì Ma che cosa? Datemi un'azione amici Ehi Si è trasformato nella foresta Ti piace Ok ci arrivo Vabbè Allora questo è Ok Io sono Dinamosauro Tu chi sei? Dinamosauro Io sono Orso E com'è che non vedo il... Il nome? E no perché azienotte non li vedi mai Devi... Fatti Aspetta Mi faccio una foto Oh shit Allora io e Orso Non siamo di sicuro Aspetta Dov'è la zona 6? Io vorrei dire Scusato a random Oh! Aiuto! Oh eccolo Allora qua c'è Kita Che è Kita Sicuro Ok Kita Orso e io non siamo O è Nem O è Naro O è Nem o è Naro O è Nem o è Naro Dino mi ha accusato a caso Mi ha detto ABV Si si parla tu parla C'è anche il 2015 lì Orso Tu m'hai visto che arrivamo assieme no? Si 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 ti ho visto Ti ho visto No te Che era semile della compagnia Caro Shit sono lontanissimo Allora io sono lontanissimo Allora dobbiamo andare Ok Io sono nella safe Se vi do Allora Naro o E dov'è? Come si vede la safe? E' la cosa gialla Dinamo Il pallo dell'umino di scale Allora se io vi do Io sono nella safe con Orso Aspetta Nooo Si si Confermatemi sta cosa Se io vedo Alex o Lina gli sparo Sono morto Siamo noi tre Se siamo noi tre io sparo uno di due Allora Orso Kill e io non eravamo di sicuro Per me Allora No no E' Alex E' Naro 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 No 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 Io sono lontanissimo Allora io per un momento Io ho preso il fucile Mi sono fatto aiutare da Naro Eh vabbè Che cosa c'entra? Eravamo in due quindi Quindi vuol dire che l'inizio può essere l'altro Io ho la torta Siamo in due e quell'altro un dov'è E poi ce la giochiamo io e Naro Io ho la torcia in mano Mi sei trasformato A rigore di logica e Alex Ho la macchina Spariamo ad Alex E poi io e Naro ci spariamo Eh vabbè Spariamo ad Alex Ok E poi io e Naro Porca troia che momento Scusate Ok Naro Occhio Allora Se arriva Io lo posso rallentare con la macchina E poi li sparo Perché invece Da quando la uso io è una merda E poi ce lo giochiamo io e Naro Ok Ma qua dentro nel cerchio verde cos'è che fa? Allora all'entra Ah ho capito Adesso non avevo capito Non c'è ben niente qua dentro Oh eccolo Sta arrivando Sta arrivando C'ho il fucile Tranqui c'ho il fucile Sento Ma mi avete sparato mezz'ora Naro Ho fatto una macchina fotografica Naro Naro con tutte le Mi disparo Ho fatto fuori Alex e sparo a Naro E poi aspettiamolo Ma perché scusa Eccolo Dove Aiuto Io non ho munizioni Quindi Ok Me lo confermi? Perché mi ha sparato mezz'ora E io finito Allora questo è Alex Di sicuro Qua Alex O Naro O Sta scappando Ma Naro è qui No anche Dinamosauro non c'è Vabbè è Dinamo Scusa Orso Hai confermato mezz'ora Che Dinamo è non decente Eh ma perché Eh ma perché prima eravamo davanti a un infetto Si La macchina Allora te lo dico io È Dinamo perché è uno accusato E adesso è muto Nooo Mi ha preso Eh avete l'antidoto Aiuto Non so anch'io Cazzo sono da solo No no Mi ha preso era Dinamo Beh sì Perché Dinamo mi ha accusato all'inizio ragazzi Mi ha accusato a caso Che è il personaggio Hai capito E di sotto l'ho detto che è troppo Io sono da tutto zitto zitto Io tutto zitto zitto C'ho la macchina Faccio le foto al mostro Che ve lo rallento Che c'era Perché Perché ve l'ho detto Dinamo mi ha accusato a Raid Che cosa? No 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 non ero io Vedi che non ero io No no Non era Ero io e il tizio sconosciuto Ah ecco No Erano Narrow e Kita No e Kita e Alex No 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 Ma Dinamo tu mi hai accusato a cazzo Non ho bevuto niente Esatto Esatto Lo so Ma sei un cretino Ma sei un cretino Ma sei un cretino Bellissimo Io ero dietro a Orso Mi son trasformato dietro di lui Ma sono dietro di lui Eh E l'ho ucciso E l'ho ucciso Perché mi stava arrivando uno dall'altra parte Ma che poi appunto non potevo essere io Perché ero in mezzo a voi E quello che mancava a voi era Dinamo e o Alex Ma Dinamo mi sa che era morto Eh sì Io ero morto a Orcia Sì sì Ah ok E allora era Sì infatti ho detto O sparò ad Alex o a Narrow Però una volta che muore ti muta Eh sì No ma anche da Discord ti muta no? Sì 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 Dal PC Dal PC Tacca la connessione di Slack È tutto È tutto Però 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 ho visto come rende Porca troia Però io non ho capito cosa faccio Che dobbiamo fare? Ragazzi non mi cerca il game Faccio casuale e poi stop alla ricerca Eh sì sì Si vede che qualcuno sta facendo mercante magari Ah sta facendo mercante? No Io non ho Io sono ancora al 5 Non so nemmeno che è mercante Praticamente se Io sarei prevenuto Se è innocente Deve capire Chi è l'altro innocente Innocente in modo che tu ti possa filare di più Sì questo l'ho capito Però come raggiungo le zone? C'è il simbolino sulla mappa con la distanza E Te lo dice Impossibili a che servono Impossibili Appena da rendere la safe zone Sì Per quello se tu sei Ah ti localizza la safe zone Sì No no Crasciato 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 Qualcuno è crashato Crasciato Indovina In pratica Il ciclo è giorno Tra le due luci accese Buio Nel buio tu devi trovare i fusibili E metterli in modo che Finisce subito E si passa alla zona successiva Se non li metti Così che No Non abbiano troppo tempo per bere O per ammazzare gli altri E tu dai infetto per rubare i fusibili Se tu non li piazzi Prendendoli Ti avvantaggi come infetto Perché praticamente li tieni quella zona e vinci Il sangue è che mi serve per il sangue E sei infetto per trasformarti Per diventare il mostro Per diventare il mostro Cazzo una loncia E no Nel game no Perché ci avevamo incontro Possiamo uscire oppure fare casino Io opterei per fare casino Io opterei per fare casino Io opterei per fare casino Esatto Ci spariamo subito tutti No Ci fidiamo i tizi lì che sono insieme E poi ce lo giochiamo A questo punto E accusiamo Naro Secondo me è Naro Ma che secondo me Eh sì perché non hai giocato Infatti no perché non lo vedo Non c'è Dov'è? Non è mai con noi Non è mai con noi Ha preso il fusibile No No Bellissimo Bellissimo Ok Nella partita prima Alex continuava ad arrivare E io gli facevo le foto Per rallentarle in modo che Che foto Sì sì Ok Dovemmo uccidere Nina Nina e Hans Nina e Hans Perché io gli ho sperato col fucile a pompa subito E poi ero rimasto senza armi Cazzo ce la facevo da solo sopravvivere Ma ero senza munizioni Ce la stavo facendo da solo No no ti ho preso subito Mi stavi accontollando Lo dico Perché avevo finito il fucile Perché avevo preso Alex E poi c'è arrivato tu Percà Troi È partito ancora Ancora Ma dal mercante cosa faccio? Perché intanto Ehm Gettone Quando sai di livello Ti da un gettone Eeeh Fai il gioco delle Delle tributtile Io non capisco se è impossibile Che formarlo Spare alla ricerca Andiamo gioco Andiamo uccidere Nina e Hans Mi sparo? Ho trovato uno Sì sì Aspettaci aspettaci Vai vai speriamoli Vado? Tutti su Nina? Io Hans Io Hans ragazzi Ah tutti su Hans Come vedo dove siete voi? Vai Nina e firma Sì Dallo What the fuck? No 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 Ne manca uno Ci manca E' morta Vai vai Accoltellatelo 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 No è spaurato Ma perché me? Non devi accoltellare me Eh io non ho più munizioni Ecco Betto la trappola Betto la trappola Ci rischi di vita Accoltellato medikit Beh ciao Oh po' cheussia Pffr Oh no no nooo Sii messa in перfeći G half anterly Accoltellatelo Ho 60 di vita Eh l'ho accoltellato mezz'ora Ho 60 di vita Hasi Certo? Questo è in Dinamo Che è successo se è tornato in vita? Manca Manca un voto Qualcuno gli spari L'accoltelli Mi accoltella minutes Dinamo Do Möglichkeiten C'è qualcosa! Dinamo colpito! Non è piccino! Andato andato! Eh ma... oh! Ma mo? It's Chang it's Chang! Sono io Chang! Why? Why? Oh! Così! Così ti ho coltellato in testa! Perché mo avete coltellato? Che mi è andato! E eri nel target! Ok, adesso! Perché se mi uccidete mi fa... Di... 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 Di crashato! In tutto! Anche da Discord, no? Oh shit! Bello, l'ha coltello! Hans, shoot me! Eh, l'ho ucciso, l'ho indebolito parecchio! Cazzo è pauro! C'era uno sulla sedia a rotelle! No, l'ho ammazzato! L'atterronanza di D! Io ho 100 di vita, wow! Why? Why? Tell me why... Tell me why... Tell me why... Tell me why... C'era canso! Va bene! Aspetta! And? No, era distrutto! Sì, sì, sì! Ma chi è che è rimasto vivo qua? Non capisco un cazzo! È il prossimo piano! Eh, dove cazzo è il prossimo piano, amici? Orso! Dove cazzo andiamo che c'è di team? Eh, qua! Stai sicuro? Qua, qua, qua! Finiamo! No, io ho trovato Dinosauro e Kita, ok! Sì, ora ho il pigiama a quel livello! Lo ammazziamo sto qua? Chi è? Mi ha sparato, mi ha sparato mezz'ora! Spana lì! Chi è che... C'è uno che... che... che tossisce, perché? È perché sei tu! Prendo! Sei tu, sei ancora andando... Because we hate you! Sparategli, sparategli! Colpitelo! We hate the old man! We hate the old man! We hate the old man! No... Hey, why? Serà soltanto uno! TINAMO, dove sei? No, non so, qua sopra! Spano aiutate! Degli una mano, dagli una mano! Questo continua a dire che sono io, arandu! Cioè, l'abbiamo picchiato tutti, sono io! L'abbiamo anche te! Sarà perché sei tu! Ma perché mai? Come funziona? Adesso siamo arrivati in quadro! Perché io non trovo che fosse possibile? Perché? Perché? Guido! Ma voi non sapete chi potrebbe essere? Parali! Niente! Vai, uccidiamo uno! Siete delle verde! Uno, manca uno! Io sono qua, ma dove siete voi? Vieni a uccidere Nem Dove siete? Falle! Ma non perciò di sapere che lui l'abbiamo picchiato tutti! Questo è difficile! Abbiamo incontrato la partita! Perché mi va? Perché sei un finto detective! Sei un finto detective! Che bello! Come faccio a capire dove siete? Eh, noi siamo vencini! Cazzo, quello continui... Ma perché? Sei un finto detective! Io ho un colpo di pistola! Lui mi diceva che è un finto detective! Non mi pare! Qualcuno si è trasformato? Bene! Ma hai finito o no? Non ho capito! Eh no! Se M si immola, finisce subito! Eh però non so dove siete! Non è chiuso! Non è importante! Non è importante, ma non so comunque... Eh lo sai che è un... Siamo dove sei morto! Eh, cazzo, mi spawni... Grazie! Non so come... Devi usare le condutture! Eh ma non sono trasformato, non posso trasformarmi! Ah già è vero! Eh no! Ma vedi che puoi trasformarti! Eh sì, ma non ho... Non ho le sacche! Sì sì sì! Carcale! Cazzo! Sono incastrato in 10 cm ed è tutto muro! Ti giuro! Anche se lo vedete dalla live non capite un cazzo! Sì ovvio sono io, però non so come uscire! Quindi l'altro è... Dinamo? Eh ma dove siete? Non riesco a trovare! Come sei tu? No io sono... Non sono... Sì sì! L'altro Dinamo! Che si io non sono non è accettato! Ah! Ah! Questa furia? Che significa? Secondo me sono io! Gli orso ci stiamo guardando perché è il primo che si trasforma in massa mate! Sparagli! Sparagli che Kita! Sparagli che Kita! Te lo dico io! Questa è notte che non può fare niente! Ho tre colpi in due! Oh arriva! Arriva qualcuno! L'ho sentito! Guarda il diretto di stile... Vai anderti sotto alla luce anche te è il genio! No io non ho un cazzo, io ho due colpi di pistola! Nel buio! Non nella luce! Oh mamma mia! Era Dinamo, era Dinamo, cazzo. Ah, ma tu hai gli occhiali, non li avevo visti. Madonna mia. Ma che ha fatto? Che paura. Che paura. Un altro suo name. Stato via il porco bastardo. Che è? Chitta, te lo sto dicendo io. L'altro è Orso. Spanali. Ma voi mi sentite? No, no, non so io. Però adesso perdo solo colpi. Spanali, Spanali, Orso. Orso, trasformati, dai che la... Ok, mi trasformo, mi trasformo. No. Aspetta. Ah, forse perchè sono innocente. Ero io. Ma lo so che direi. Vuoi sapere chi è? Che p***a. Fucilato a Subitz. C'era un cazzo. E poi ho vinto comunque perchè non vi siete salvati tiè. E vi sono mangiato di uno. E noi eravamo fermi sull'incivo alle scale a far niente. Che persona ha ucciso. Che poi veramente non ho capito perchè Hans con timore. Ero io. Poteva saperlo. C'è l'abbiamo picchiato tutti. E mi dice. E l'abbiamo picchiato subito. Aggiungi a me. Ma perchè? E lui dice. Ma sono io. Ma che cosa? Perché? Il dubbio. Si. Per davvero. No. Mi rinvidi che non ha funzionato. C'è tu. Sei chi da dove ero. Ero praticamente da dove sulle scale. C'è da dove vai verso la safe. Dietro in una stanza buona. E non si vedeva. Cazzo non si vedeva. Io ero. Cazzo ma voglio uscire. Mi chiamato il tico. Mi ha spawnato. Avete visto che c'eva le cose belle? Eh si si. Si è fatto il suo personaggio. Si è fatto l'anziano. Ovviamente. Io gli orso andavamo nascosti. Non potevamo far niente. Cioè se uscivamo potevamo morire. Avevamo tre colpi in due. Dino avevamo morto. Dino era per l'Italia e l'ho mangiato. Poi lì. Veramente. E' arrivato un 4-4. C'eva fame. E gli orso non potevamo far niente. Dove andavamo andavamo. Perdevamo. Io stavo cercando di circostare orso a posto. La potevi fare. Eravamo appena iniziata la furia. Ci stavamo guardando. Nessuno ha fatto niente. Ma la furia che cos'è? Prima di essere trasformato. Anche se non bevi sangue ti puoi trasformare. E dura finchè nessuno mette i fusibili. Infatti io mi sono trasformato per quello. Perchè non lo trovo. Senza pub. Che parli il manico. Ma ne soppiate troppi però. Ma ne soppiate troppi. Ma ne soppiate troppi. Il manico mi è bellissimo. Ma non vedo un cazzo quando vedo. E come facevo. Cosa mi faceva la pappa. Devi imparare la pappa. Il manico mi ho presta e... E parte. Basta. Sono tre. Sono tre. Magari aggiungeranno altro. Ok. Sono serio. E' quello da ammazzare. Perché... Che sarò? Giochiamo serio. Giochiamo serio. E' sempre Kita. Non si capisce come va. Anche da Pai c'era sempre Kita. No, stavolta lui... Il primo era innocente. Stavolta l'ho fatto due volte io. E tu Kita quante volte l'hai fatto? Una? Tre. Forse anche tre. No due volte con Naro. E una volta con Orso mi pare. Si. Si. Oh ma sempre innocente. Sempre wiki wiki. Sempre innocente. E lui. E lui. E anche io. Cioè ogni tanto vorrei fare anche un inferno. Eh Orso. Ho visto. L'ho detto io. Si è fusibile. Non li vedi si è fusibile. Eccolo qua. Adesso che... Oh c'è un arrow. Perché bevi sangue? No. No. Ma come mi sa? Qua persona è fusibile. E' fantastico. E credo di aver rotto il gioco. Perché? Hai shiftato troppo? Si. Ho trovato una zona bellissima. Adesso ho trovato una zona bellissima. Perché è il piano sopra ed è bloccato. Perché questo rompe sa cosa? Perché la rompe? Qualcuno bere? Perché rompe... Gli avvi un po' rompe una cosa qua. La leva. La leva serve per fare fungal. Forse sono qui. Ho sentito qualcuno bere. Ah si? Ah c'è un'altra cosa. Io lo trovo verso qui. Qui sono io c'è qualcosa. C'è il pompa. Qua dove sono io. Ok. Te lo rubo. Vai Raffaele l'ultimo. Ahia. Questa ha bevuto. Che faccio? Gli sparo? Si. Si ha bevuto. Oh. Oh anti. L'hai sgamato. Deve dirlo. Eh. Ehi. I. 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 ma guarda il personaggio quindi ora si trasforma il mio mangio però e ora scappa per trovare i fusibili e dove sono i fusibili? mi sono perso un'altra volta forse sento sparare, sento sparare oh! mi ha ucciso e non l'ho ucciso in realtà sono incastrato è l'unico che non è con noi allora io sono rispaunato e mi ha ucciso il personaggio la femmina, come si chiama? fusibile qui un fucile che non mi sento sicuro questo è stato fatto orso, tu orso dove siete? oddio, dammi lontano dove si mette il fusibile? la cosa qua del mamma mia io devo far tutto il giro per mettere un fusibile il manager cazzo aiuto, sono stato preso sono morto però che fai sparando quello? aiuto guardate è questa ma chi? dov'è? è questo io non vedo, è Naro, dove ti possiamo alzare? inutile chiede aiuto a bionda qua con i capelli ricci come si chiama? io ma perchè ti hai sparato? la domanda è certimista tu prima mi hai accoltellato, perchè? perchè prima doveva andare veloce prima prima aspetta furia, furia sono in furia? così cari, io muoio sempre mai ma quanta roba ho io? ho raccolto anche la macchina fotografica ma io non posso arrivare da voi oh, si è trasformato, oh maronna uno dietro, l'ho visto oddio non vedo niente no non posso arrivare da ma dai eh ma come ha fatto a prendermi? eh con quelli vieni tu però portate l'antidoto con quelli vieni tu portate l'antidoto portate l'orso che ho pulato scappa portate l'orso che ho pulato arrivo direi anche dove scappare ma non so comunque dove scappare si aiuto nebbino io qua sotto qua sotto qua sotto qua sotto qua sotto aiuta i munizie a coltello addirittura troppo picchi in campo con il coltello oh ne arriva un altro niente sono morto questo è nehm, questo è nehm c'è la skin nera eh vabbè ma c'è di palle siii siii grandissimo grandeehm mi ho dispistato tutti i morti mi son fatto prendere il fucile a pompa 4-4 non ho detto niente ma a me quello che mi ha ucciso non aveva la skin nera quindi non penso che... spiegatemi una cosa se a me mi uccide un altro giocatore non muoio ma respawno giusto? si e invece a me uccide il mostro se ti uccide il mostro ti possono curare se ti spara un giocatore e vai a terra per votazione ti possono eliminare però devono votare ovvero che 5 persone su 6 ti sparano si perché è come se non stessi facendo una cosa giusta è come se fosse l'espulsione del game si si è come se si aspettano che tu sia il mostro, l'infetto ma i nomi ve li dovete ricordare al memoria dei giocatori o si capisce che è? ma no vedi a sinistra c'è a sinistra si però di notte devi riconoscere massimo carissimo ben arrivato come stai? ciao massimo di notte devi riconoscere chi è c'è vedi il tizio nero sai che sono io perchè sono io eh beh io ho la skin da nera che cosa non vale è l'unico che c'è la skin da nera ancora manicomia basta? io sono il vecchio hai fatto un malus tu hai la skin nera quindi se mi acchiappa io ti posso già dire sono morto però potrei dire ah guarda chi è lui dobbiamo farci le regole no ma comunque pure discord faccio eh o mi sentivate parlare cioè parli e ti sentiamo penso perchè non è collegato io parlavo e non mi sentivate no è impossibile no è impossibile la discord ah va bene massimo grazie mille di essere e allora staccino ora riparlo e vediamo se ti senti va bene in caso comunque ci dobbiamo fare la regola è tipo uno viene assalito non può dirlo non deve dire che è stato assalito ma solo quando rispauna dirlo sono stato assalito aiutatemi con l'antidoto in quei 20 secondi in cui puoi puoi parlare magari qualcuno ce l'ha eh si quello si penso che si no non puoi non puoi no facciamolo ti muto anche quando sei tiburra nio è vero ti muto allora niente allora niente quando sei a terra non senti se venite respawnati potete fare ipotesi su chi da chi siete stati assaliti è orso è orso è orso è orso sono un dino è orso e da un po' che ma anche anche Naro da un po' che non fa l'assassino ma io so 6 o 7 volte che sono in pet che sono normale adesso è dino perché è nero no ancora passa per una statistica ma dovrei essere io secondo me è Naro è da un po' che non lo fa Naro è vero sì sono infetto su steam gratuito massimo porca io non capisco perché parte steam io vado ogni volta all'avvio perché? hai capito? è quello ok aspetta che quello lì sta parlando quello lì sta parlando you're floating here ma I think he's lag dove sei orso? you guys are floating here i lag prendilo tu non so floating cos'è che dà questo? e non lo so l'hai preso te ah la macchina fotografica no l'ha visto? no non l'ho presa io questo mi dice stai volando in aria ho capito sarà lag infatti dai oh sono ma che palle però sono nina stai volando in aria 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 oh questo chi è? ah dinamosauro trovo ma come che non vedo i boboli i non trovo mai il oh no c'è un giubbino prendiamolo ho le sacche di sangue e io ce l'ho già no è una lisa no i i invosibili come erano dove di notte perchè fai cosi? questo ti da un oggetto bonus non lo so adesso è spento basta chi ti ha chi ti ha pattino chi ti ha pattino pattino? sto laggando davvero? ma porca proia vedi questo qua è un fusibile questo qua c'è uno e dove si mette? adesso ti vengono i simboli dove infilarlo li devi seguire è diretta cosi dentro di me per favore ok l'ha messo qualcuno prima di me adesso niente ti scorto a prenderne un altro io ce n'è un altro e io non ne sto so non avendo il fusibile ok io ho visto messo un fusibile a questa qua chi è? boh mazzo non vi che fastidio che aspetta telecamera fammi ma manca un signor naro mi sa manca un fusibile manca naro arrivo 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 no no naro era qua l'ho visto prima naro era lì dici aspetta ma è alex naro? no questo è dinamo è dinamo no io sono eh ma dov'è il fusibile però è qua se l'hai trovato ti da il pollo che è quello? c'era un tizio davanti noi poi massimo se ti piace qualche volta possiamo giocare tra maia ma chi è questo? no questo è un casino se non ci parliamo però eh tipi dallo vede vede il tizio typical chang è passato davanti un fusibile e non l'ha preso ok dove siete? chung don't take a foods io sono un naro safe io l'ho preso io sono salvo io pure anch'io io sono dietro a naro ho visto qualcuno lì? o qua dove c'è la bottola? che stranamente io come me lo faccio a salvare? pannaggi ma che? ah c'è la finestra di qua mica l'avevo capito che dovevo... alloranza ma perchè hai eliminato? mannaggia non capisco sei morto da gas? sei morto da gas e dinamo? ehm lo scanno lo scanno scanno il tizio ti senti parlare? si 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 ti sentiamo ti sentiamo ok io sono morto da gas però ci vive il mostro dietro pfff allora non saprei chi possa essere perchè ed è una donna bionda allora è orso perchè c'è anche innocente c'è anche innocente c'è anche innocente c'è anche innocente l'ho scannato c'è anche innocente naro non si sa naro dove sei? ma allora perchè? sto attivando le leve ho visto passare un tizio cavolo sono morto non devi dirlo è kita no non è kita non devi dirlo non devi dirlo non devi dirlo ma io sono morto ho visto l'ho visto passare a fianco a me naro non ci ho visto munire e naro ha detto che è morto non devi dirlo no non è ho visto non ho visto la bella ero nu ero c'è una ttm è c'è una ttm c'è una tta c'è una ttm ero c'è una ttm ero che hai detto Ben where are you? I can't find you A casa non vedo nessuno Non io non trovo nessuno, ho trovato dei colpi però Shit Non vedo nulla Ritrizi su base di rotella, a che servono? Ti fanno strizzare, digita Ti fanno strizzare Sono finta Tipo come Akita si è spaventato con Outlast Prossimo piano Via via Holy shit dove sei? Oh ti ho visto, ti ho visto Qua 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 I'm ready, I'm ready Questo chi è? Oh, here we are Hai ragione Naro era infected Prima di volire E non lo so Mmm E Stonaro sei morto? Si Sei infetto Ho chiesto se eri infetto nel frattempo E anche cascata E anche cascata Io ammazzerei typical solo perchè mi sta fottendo gli oggetti No, è innocente lo scannato Eyyy Ma lo ammazzerei proprio perchè mi ha fottuto gli oggetti Ah ok, vabbè, allora ammazziamolo Cioè io faccio tutta la torre con tre colpi Ciao Simo E questo qua arriva e spara in fondo E' arrivato il nostro Simo preferito E' arrivato il nostro Simo preferito Simo come stai? Com'è andata oggi? Magari se sono ancora su overwatch Merda non l'ho cambiato Perdonatemi Male, molto male Eh lo so Ah! Aiuto! Scatta questo! Dov'è? Dov'è? Ho perso! Lo prendo, lo prendo, lo prendo! Torri Sono sia il miglior detective sia il miglior infetto, tieni Eh succede E' colpa mia che ho visto troppe troppe volte ti... D'altra gente Ero io E' l'altro? No Era Naro No Ero io Era Kita Ero sempre Kita E sai cosa abbiamo fatto? All'inizio ci siamo parlati dopo il chat No, era Orso e Kita No, ero io Ah, Nem e Kita, giusto Sì Kill Quindi avete finita o no? Non l'ho capito No no, abbiamo morito L'abbiamo mangiati tutti Ah, ok Ripartiamo, dai Aspetta che... E manca qualcuno Giusto, scusate Naro Naro L'invito del gruppo Poi sei inti Sei mago Sei mago Sei mago vero Buon stafferentino a tutti i signorinelle Eh Eh Sì, mo Ben arrivato Con corraffa Vi do un bacino a tutti Solo perché Perché Anche no Anche no Vi ho invitato io a tutti Ma io ti vedo offline Tu lo vedi offline? È vero Sì sì Sei offline Hai visto? Naro è offline online Ma su Steam è online Io ti ho invitato, Naro Nel caso Io non vi vedo Non lo so Steam è online Naro Si vede che Hai condannato A fare Hs Eh sì Esatto Sempre Comunque Aspetta è proprio la partner Attiva Hs Europa Comunque questo gioco L'abbiamo scoperto un po' per caso Perché Era uno di quei giochi Almeno dello Space Var Comunque una community Poteva fare in gruppo E quindi L'abbiamo invitato Eh sì Mica Si ho messo Tipo una ventina di follower Vado Sono stracontento per te Provate ora A mandarmi l'invito Sennò chiudo e riapri Ma che è Carlesella? Sì chiudi e riapri Sei sempre offline Sì Carlesella In chat ti salutava Bene Ciao Ciao Ci mostra la sua nuova bellissima bot Che ho anch'io perché sono sub Bravo Ho avviato the site Adesso mi dice che hai avviato the site Adesso mi dice che hai avviato the site Guarda qua Il caricatore che sennò mi si spegne tutto E niente devo dire che Io dopo questa Spacchiera lì Sì anch'io perché è l'una Topic La topic Piccolina Sì sì No ma anch'io perché comunque Se ho un bel po' in labis E siete arduo Si può parlare tanto Io non vi sento in questo momento Voi sentite me Ma io non sento voi Sì però Che comunque come Un gioco di parti da gruppo Deve vedere le cose Ecco quello che parla sopra La forza Tanto poi C'è il podcast Certo però io sto parlando Ok è relativo Eccomi qua Ora il pallino si vede Ok tu invito Allora vieni Venga Ok Ci facciamo l'ultima Sperando di non essere il Infetto Infetto Per l'ennesima volta Sì anch'io io stavolto tutte le volte Io dobbiamo in reazione Cheat Eh sì Auguri anche a te Simo Ti abbraccio tutti Va bene No devo dire che comunque Un po' per noi Su No Così ci sto Sì Sì ma noi siamo rubati Non ci parliamo sopra No perché va bene No E ricordati che se muori muori però Naro Ricordati Infatti l'ho preso E c'era Kita a fianco E ho detto adesso Kita ha messo l'altro E ha parlato Ma porca troia Si è sgamato E c'era Kita E merda E merda E merda Ha detto tutti e due Un casino Cazzo un Kita cosa facciamo Vai Qualchizia Io ho visto Io ho visto passare a fianco a me Kita un secondo primo E poi ho visto Il tizio Il trasformato Se sta in donazione di morte E no infatti c'è la sua modella Se state morendo non lo dite Solo se siete a terra dite antidoto Dite solo quello Se no si capisce chi è stato Chi è stato con voi Se no si capisce Infatti c'è una Kita vicino a me Ho detto ok ormai la vinciamo C'è Naro E basta C'è Naro E basta E basta E invece no C'è Kita C'è Naro Io sparerei ad Alex Nel Doom Così Perchè è bello Perchè è bello Perchè è bello Perchè c'è una bella maglia La pistola rossa e gialla E' vero E' romano La maglia bella ce l'ho io E basta Sì C'è il pigiamino d'anzi Eh Il pigiamino che è addosso adesso Dallo stesso Ma che poi tra l'altro Il modo in cui si tira su E fra qui si tira su male Finalmente sono innocente Ciao 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 Allora Bisogna di gioco Qua c'è Alex Ok sono qui Io sparerei ad Alex Solo per la pistola Mi spazio Sì Forse hai visto In Criquadattore Era un'esecuzione Dell'Isis Ero da dietro Sì sì Ero da dietro Con la pistola in testa Puntata Adesso questo li taglio la gura Facciamo il video Guarda prendo le sacche Non è vero Eeeh Guarda che ci credi Non si possono rompere col coltello Eh aspetta le svuoto Ok Io orso non siamo Perché siamo simpa E io sparerei ad Alex Perché Alex Vagabin ti ricorda Chi te è nella vita vera Quindi Oh fuck Io sto ridendo tantissimo Dentro di me Ma perché non funziona Questa cosa Cosa stai vedendo Che strano Voi Si Fa ridere la cosa Ah ok No ma dove sei? Nessuno mi ha visto No io sono Forse non ci sei Si 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 no stavo mettendo in carica le cuffie perché Se no mi si spengono Ti si ti si spengono Ok Se nessuno mi ha visto fa troppo ridere la cosa Perché sei Bene io sto conquistando la torcia eh Così poi vediamo Cazzo dio Si stai andando in carica le cuffie Ah per l'amor di dio Aspetta questo sei tu Se qualcuno mi vede io rido No questo è Dino Eh cazzo Manchi solo tu Ovvero i sospetti Io sono qua di inizio partito Fa troppo ridere la cosa Dibi dove sei? Oh no Alex mi ha Mi ha fottuto il coso Io lo uccido Vedi che è pal E adesso non puoi ucciderlo Devi attendere 80 secondi Vabbè 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 Tra 80 secondi lo uccido Aspetta questo è Keita Forse che viene da 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 solo Non so Keita cosa c'è? I'm innocent No allora io sono innocente Vi dirò una cosa Allora io ho iniziato la partita Mi son messo in un angolo E ho guardato tutti voi fare robe Tutti Mi faceva troppo ridere Che io lo fermo in un angolino E voi non mi avete mai visto Io sono ancora lì Ma c'è il volo che sai Io sono ancora lì Lo scusate Ma tutte le volte che mi toglie la cosa parte un colpo Vabbè è così Chi ti è bagato dentro un muro? Ti è bagato dentro un muro? Ti è bagato dentro un muro? Bagato? No 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 No! Lo vedrei io Eh perchè hai detto che guardavi tutti Come hai fatto a vedere? Non so che eravamo da parte Semplicemente C'era la porta Ma dov'è la cosa per la porta? Non ti abbiamo visto E' possibile? Dove sei possibile? Io ho anche visto qualcuno bere Mmm Eh cazzo però Se sei lontano da lui Adesso puoi accusarlo Se hai girato una stanza Poi li puoi accusarlo eh E' andato via Comunque è Nina E' Dinamo Nina l'ho vista bere L'ho vista bere Davanti a me E' Nina Però che sta scappando? Sta scappando Nina No 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 Non uccidelo adesso Perché mi avete sparato? Ti devi perdere tempo Perché ti ho visto bere Ma quando mai? Stai ridendo? Ma io sono in un angolo Ma io Ma perché potete sparare? Ma lui appena l'hai accusato E' scappato da me In un angolo? E adesso perché sono vivo scusatemi Io non capisco l'idea Perché non puoi essere ucciso Che tu sia infetto o no E' qui E' qui E' qui Che tu sia infetto o no Non puoi morire la sera Orso Orso Spiegate il primo secondo Orso sparami perché non ho milizie Adesso è la mia Mi ha fatto Morto Vabbè state calmi Non ha me Ah c'è un vibell a sopra E' morto? E' Minno Sente Il kill head di terror Area Ehm Si è sbloccatto Allora Ricordatevi se Ci sono nascosto con un porino Allora è Naro Che Che c'ho paura Eravamo tutti insieme Oh, e Keita si bacca dentro i muri e allora... Perché mi spara questo? Perché sei tu! Ma come sono io? Eh, ma ti ha accusato Keita, allora Keita mente o sei tu? Non è possibile, l'ho visto! Visto? Mi faccio vedere come ero, adesso appena... Sono nelle pezze di merdo! Perché mi spara? Guardami! Posso? Ragazzi, la temperatura! La temperatura... Ma così? Vieni qua! Io ero qui! Dove dobbiamo andare mo? Io lo fermo qui! Ho visto Racer salì davanti! E allora è lui! Perché sto morendo? Curitemi! Per accusare, oltre che dovete vedere qualcosa di essere almeno una stanza di distanza... Cioè, se siete... Soprattutto se vi spara... Oh! E' qua! E' qua! Guardate! E' una munizia! E' una munizia! Oh, ancora! Mannaggia la miseria! Ma che vuoi fare? Aiutatemi! Oh! Ma io non ho votato per dinamosauro! Come mai? E' morto! Probabilmente è morto qualcuno e siamo rimasti in quattro! Eh, son morto congelato! Interessante! No, ma io non ho gli dato il voto! Va bene, Massimo! Buon notte, caro! Orsu! Alla prossima! Orsu, guardami! Okita o Alex? Okita o Alex? Alex! Per forza, ragazzi! Ti colpi! Oh shit! Mi hai beccato! Tenete lo buono che metto i fusibili! Tenete lo buono che metto i fusibili! Tenete lo buono che metto i fusibili! Ne manca uno! Ne manca uno! Ne manca uno! Ora sono di qua! Ora sono di qua! Ho queste kit! Queste kit! Corri! 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 Ho fatto tutto! Ho fatto tutto! Ma cosa? Corri! E' Alex! Ho i kit o Alex! E' se il kit non è che ha accusato Didamo! E' Alex! Io e te non siamo! A meno che non sei tu! Via! 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 Uccidiamo Alex! 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 Stop! E' qui! E' dietro di te! E' a destra! E' lui! Porca puttana! E doveva col callare! Aspetta! L'ho preso! Se sei orso che mi trolla, guarda! Piango eh! Lo dico! Se sei orso, piango! Se sei tu orso, piango! Vado via! No! Secondo me è kit! No! No! Ma perché ha accusato Didamo, ragazzi! Ma perché lui non muore? Scusa! Ragione! Forse non è morto di freddo! Mi spara! Mi spara! Kit, però se non ci aiuti... Non so dove siete! E' qua! Vieni a votare! Vieni a votare! Secondo voi perché non mi aiuto! Ma non mi fa votare! Colpisci! L'ho votato! Eh no! Non lo colpisce! Cioè... Vedi che sta respawnando? Eh che cazzo! Non capisco perché non mi fa votare! C'è lo scanner? C'è lo scanner? Non è me innocente! Ogni volta che ti amm... Ah! Allora è kit! Allora sei tu! Esatto, intendi! Io muoio sempre così! Ma tra l'altro per causa di... Il discorso che... Oh! Trovano l'uscita! Andiamo all'u... Se siete innocente andiamo all'uscita! Ok! Va bene! Sì sì! Allora è Alex per forza! Perché... Oh! Ci siamo stati insieme ieri! Vai! Vai! Mettiti sopra che mazzo Alex! Vai! Mettiglielo! Vai! Mettiglielo! È lui vedi! Detta così! Mettiglielo! È lui! Non lo so! Io l'ho... Mi ho fatto un'iniezione letale! È un orso! È un orso! Porca puttana! È un orso! È un orso! È un orso! L'emma è paranoico però! Allora vale questo si sa! No perché sono il detective! Non è una novità che Nemo sia paranoico! Vittoria! Ma scusa! Ma eravamo rimasti solo noi! Non ho capito che cazzo è! Sì! Ero i tre! Però a me è Nemo! Alex l'ha coltellato! No! Io... Io è Narrovo! Mu! Hai visto? E poi mi dici che sono paranoico! Ah! Quindi Alex l'abbiamo ucciso per nulla! E sono riuscito a farlo male! Era quello diverso! Era quello diverso! Era quello diverso! Perché Kitta ha accusato Dynamo ed era giusto! Io non so siamo stati insieme tutto il tempo e siamo stati con Kitta! Era giusto! E mancava Alex! Solo che non era morto! Forca troia! Non era morto! Non era morto! No ma io... No ma io... Sono andato dietro un tavolino e mi sono abbassato e sono rimasto lì tutto il tempo! Ho visto tutto il tempo! E avevo... E avevo tre sacche di sangue nella mia... Eh... Visione! Cioè... Dove vedevo avevo tre sacche di sangue e ho visto... E poi... Facevi la condanna tipo easy... Sa uno! Sì! È visto! Mi stavo buttando! E poi... Appena è calata la notte... Nel buio... È passato davanti... Dinamo! Si chiama! Nina! È passata Nina! Che l'ho riconosciuto perché aveva i capelli grossi! Ha! 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 Alex gli stava facendo l'esucuzione Isis ed è andato via Cazzo rimane lui, spariamo, invece Nano è morto nel ghiaccio, ma porca troia Signori, che facciamo? Sì, sì, perché è tardi No, io ormai ci ho preso questo, un altro rush Ah, io stacco perché è tardi, il Nano da un sacco di tempo Porca miseria, il Nano però, dà la soddisfazione di ucciderlo, è l'unico Per cause naturali, incredibile Per vecchiaia, per vecchiaia Per questa prima partita abbiamo già capito un po' di dinamiche Stiamo capendo che ha giocato la prima volta Sì, e soprattutto ci riusciamo a non parlare sopra Sì, perché facciamo dei belli accini, quindi io ringrazierai un sacco Orso Che comunque è venuto a giocare e spero che avrò voglia di farci a prescindere E che non ha lasciato il follow, però Ha lasciato il follow Orso, quindi twistone, adesso scappa, guarda che scappa che è l'infetto Ah, non si fa No, non so Qual è il canale, è questo? Che gli... Abbiamo il multi-twitch, abbiamo il multi-switch, la chat di Discord Scusi, non so qual è il canale No, figurati Orso Che così, almeno, siccome ci conosce, abbiamo giocato, giochi le prossime volte con noi tranquillamente Cioè, ti teniamo in conto Io direi che come esperimento per noi Space, anche con Kita, lo direi Che è riuscito Perché era questo che volevo Un po' di goccia E spero che sia piaciuto Ok, io non ve lo dirò Sono tirato in un pezzo di discorso Sono d'accordo Io mi nascondi io Sono d'accordo, dovevo rispondere un attimo in tempo No, secondo me è stato molto bello, molto divertente E funziona, lo possiamo portare delle altre volte Sicuramente sia il martedì Quindi vi ricordiamo che possiamo essere tranquillamente in multi-twitch Per lo Space Valley che è la nostra community E niente Quindi Grazie a tutti Grazie comunque anche a me Che magari mi è venuto a passare anche solo per un saluto Come il buon Simo Che anche lui fa portare la community Il buon Kita Che è venuto qua a giocare Grazie anche a Dynamo Mi raccomando followate anche lui Anche lui stream Grazie Grazie E niente Ci sentiamo alla prossima Grazie comunque anche a chi è passato da me per prima per Overwatch Ci sentiamo comunque domani Ciao a tutti Buonanotte Ciao Buonanotte Grazie Grazie Grazie